Il descrittore 7 si occupa degli impatti sull'ecosistema marino prodotto dalle grandi infrastrutture marino-costiere, quali ad esempio porti, impianti eolici offshore e piattaforme per lo stoccaggio di idrocarburi, in grado di alterare in modo permanente e significativo le caratteristiche idrografiche come il moto ondoso, le correnti, la temperatura e la salinità. Tali alterazioni possono danneggiare gli habitat del fondo marino e della colonna d'acqua, andando ad aggravare fenomeni di inquinamento o degrado già in atto. Per questo motivo sono stati adeguati i piani di monitoraggio delle infrastrutture soggette a valutazione di impatto ambientale a livello nazionale, in modo da fornire informazioni di maggior dettaglio sui parametri idrografici, utili anche per valutare i cambiamenti climatici nel mar Mediterraneo.